Ciao ragazzi, qui è Blast e dopo il successo del video su come reclutare i giocatori inattamente con Super Tecnica vi propongo ovviamente anche il video su come reclutare tutti i giocatori, portieri, difensori e campi staccanti che imparano inattamente, mettecela tutta, altra extra fondamentale è che insieme alla Super Tecnica vi avete riempito di domande su dove trovarlo o per meglio dire di come ottenerla, dato che solamente una del gioco si può avere e se non siano altre copie l'unico modo è mix-maxare i giocatori con quelli che già le imparano inattamente Passiamo dunque a Luciafar che è il primo, è il primo portiere che vi propongo un portiere che comunque risulta molto molto buono, infatti io lo uso in aura di Poseidon è un portiere molto forte come statistica, come vedete è 3-6-1 sicuramente a livello di elemento montagna, dopo Mark e Asteroth forse è uno dei migliori sicuramente è molto interessante, mancate stare il montagna più, il re bianco insomma sono cose che poi ho aggiunto io, ma è stato il fatto che impara, mettecela tutta molto interessante ovviamente la sua amico card si trova al museo del calcio, esattamente qua solo che invece di entrarvi bisognerà andare a destra sorpassare questa aiuola, che non ho mai capito perché non potevano fare il passaggio dritto per di qua e hanno messo questo laser non so neanche se si può togliere guardiamo dunque il mazzo ed ecco qua la squadra alla fine della Ogre di Luciafar che anche qua preparatevi perché chiede altri giocatori Triunvir, Gunther e Ischer allora per Triunvir, che è qui sotto, chiede Orologio Taia Unica e Mann Orologio Taia Unica è un po' l'oggetto di questo reclutamento perché bisognerà battere la sfida della Ogre alle amichevoli nostalgia dunque siamo all'edificio principale del passato e bisognerà parlare con Winterseed che ci propone le sue squadre nostalgia, ovvero le squadre un po' del passato e sarà la Ogre, tra l'altro a livello 80, dopo l'appoggio c'è questa come squadra più forte che non sia 99 che droppa Orologio Taia Unica mi raccomando, utilizzate il tutorial tesori che permette di avere più possibilità di trovare questo oggetto per reclutare Triunvir, chiedeva anche Mann un giocatore che ora mi ero anche dimenticato dovevo poterlo ottenere ma è molto semplice basta andare all'ospedale nella zona della tomba del presente e cercare di battere questa partita molto semplice, semplicissima, a livello 4 o 6 non mi ricordo e la cosa che bisogna fare è appunto dover battere la partita e avere la possibilità, la fortuna, solo una volta averla vinta con i requisiti che chiede di poter reclutare anche Mann dunque, anche Triunvir è reclutato passiamo dunque a Gunther che è l'altro secondo requisito di Lushafar che chiede il solito oggetto orologio Taia Unica, dalla Ogre, amica di nostalgia come ho fatto vedere prima, è Nebuka per Nebuka bisogna andare all'epoca Stengoku al castello di Owari l'amico card in realtà non è proprio dentro il castello ma è qui vicino al ponte al portone del castello insomma da Ronin ruggenti ed ecco qua Nebuka che chiede altri giocatori prepariamoci a perdere tempo con i giocatori totalmente inutili Ani è un tema Ani è il portiere qua sopra che chiede Ashiga e Rokudo sono esattamente i giocatori che abbiamo qui a fianco Ashiga, pregamento imperdibile è un tema per questo oggetto bisogna abbattere la sfida appena uscita dal castello ovvero questa qua dovrei essere praticamente certo di questa sfida qua quindi una volta abbattuto dovrebbe la possibilità di ottenere pergamene imperdibile caso mai nei commenti confermate perché effettivamente può essere un dubbio che poi può dar fastidio per chi non la trova tema Sandali Magici invece bisogna sempre andare qua all'epoca Stengoku ma andare in città perché quello che bisognerà fare sarà andare nella Wari Divise che io non ricordo mai quale sia fra le tanti e parlare appunto con un tema con un ragazzo che vi dà il tema Sandali Magici dovrebbe essere qua da queste parti insomma lì fuori di questi due personaggi ci dovrebbe essere un terzo che vi dà il tema Sandali Magici torniamo dunque al castello e oltre ad Ashiga richiedeva Rokudo altro giocatore che come abbiamo intravisto chiedeva l'oggetto pergamena imperdibile e già vi ho fatto vedere come ottenerlo e poi una foto kimono di qualità siamo sempre all'epoca Stengoku e non vorrei dire una scemata ma secondo me siamo sempre a Wari Divise potrebbe essere che mi sbaglio però può anche essere che alla fine qua dentro ci sono due foto dunque la naginata e poi questo kimono di qualità che dovrebbe essere questo telo che era un kimono quindi secondo me sono praticamente sicuro che tutto qua si trova quindi molto molto semplice questo reclutamento torniamo dunque adesso a reclutare quindi Ani che mi ricordo che oltre Ashiga Rokudo chiedeva una foto probabilmente pentola fumante esattamente per questa foto insomma per trovare questa pentola bisognerà essere sempre a Wari immaginate sempre la città fortificata ma non più a Wari Divise stavo facendo un po' un avanti e indietro che io non mi ricordavo tutto questo un trambusto ma vabbè bisognerà passare il ponte questa volta ed entrare all'interno di questa di questo ristorante che alla fine mi pare no non è un ristorante ma insomma un luogo dove si mangia direi un negocio di tofu insomma e far la foto alla pentola fumante torniamo al castello di Nagoya cioè voi non tornateci ma ci torno io per farvi vedere il video torno al castello vediamo cosa chiedeva di altro perché non mi ricordo ma insomma abbiamo già fatto un bel po' di reclutamento abbiamo contato Ani Ashiga Rokudo passiamo a Nebuko che chiede Aiuoli del futuro bisognerà dunque andare adesso alla metropoli Santa Eldor dunque al Inazuma del futuro scherzavo ho sbagliato mi ha ingannato quella parola futuro bisognerà invece andare nell'Inazuma del passato e parlare con una ragazza in alto dal campo di allenamento a sinistra è un po' vago come situazione ma ci può stare alla fine la parola futuro inganna ma dovrebbe essere da queste parti non vi so dire altro forse qua boh io quello che mi sono scritto è parlare con una ragazza in alto a sinistra dal campo di allenamento del passato Raymond del passato dunque dovrebbe essere qua da queste parti purtroppo non scrivi altro nei commenti confermatemi e dunque ragazzi pure Nebuko ha reclutato o reclutata non so manco se sia maschio e femmina possiamo dunque tornare al museo del calcio perché ora abbiamo reclutato sia Triunvir sia Gunther mi pare che non vi chieda altro forse è un tema o una foto ma mi sembra di no vediamo subito e oltre a questo no appunto non chiede altro Lu Shafar chiede anche Isher un giocatore che poi analizzeremo successivamente perché è protagonista di questo video ma che comunque è importante anche per reclutare Lu Shafar sempre il solito orologio taglia unica e poi una foto anche qui purtroppo sono un po' vago ma sono sicuro che sia 100 città non mi ricordo totalmente dove possa essere insomma un cartone indistruttibile da cui farci la foto sto cercando di ricordare guardando un po' forse può essere qua sì può essere che sia questo tipo di cartoni insomma fateci la foto e avete reclutato anche Isher e di conseguenza avete reclutato pure Dun dunque Lu Shafar eccola qua Lu Shafar penso sia il portiere meno utilizzato ma il portiere più forte che potete desiderare perché la tralasciando Mark può ottenere la quella perfetta oppure Ra insomma classici che tutti conosciamo Darren, JP eccetera Lu Shafar può essere veramente una buona alternativa molto forte che impara come dice la tutta prossimo portiere altrettanto interessante leggermente più scarso di statistiche ma comunque molto forte è Astaroth Astaroth impara anche se come dice la tutta da cittazzare il set perché come sapete io lo uso i Miximax di Shaw il portiere femmina che se taglia ormai due anni fa impara dunque come dice la tutta Astaroth si trova sempre se non va derrato nell'amico card da museo del calcio e a diversità di Lu Shafar chiederà molti meno requisiti questo ne sono sicuro chiederà sempre il suo soggetto rollo taglia unica ma successivamente arriverà a chiedere o un tema o una foto che vedremo subito eccola qua no né tema né foto un record frutto degli spiriti che mi pare basta evocare per cento volte gli spiriti o 150 vediamo subito tra l'altro noto che qualcuno mi manca dovremmo farli in live queste cose qua stranissimo secondo me si è buggato apro qui mi si è buggato questa cosa qua perché io ne avrò vinte già 3000 di partite ma vabbè questo degli spiriti bisogna evocare gli spiriti cento volte dunque molto molto semplici penso sia in evocazione che in armatura e dunque Astraloth è reclutato insomma come vedete ci sono giocatori come Lu Shafar e giocatori come Astraloth ma che al suo punto sono giocatori quasi alla pari Mark Evans adulto cominciamo con un reclutamento continuiamo con un reclutamento abbastanza potente abbastanza grosso da dover fare per fortuna io ho qualche giocatore già l'avevo reclutato in passato e ci avevo già fatto i video quindi ora vi dirò un po' il tutto è un giocatore ovviamente molto forte probabilmente è il portiere più forte o per meglio dire che ha la presa più alta del gioco forse giustora lo passa ma poi come statistiche Mark è ovviamente più forte imparo diciamo tutta innata al grandius innato se non vado errato e per momento più io lo diedi perché io Mark Evans adulto lo utilizzo come Miximax di Trupal quindi il vento per quello io lo misi altrimenti non lo imparerebbe ovviamente per andare a reclutare Mark Evans come voi sapete bisogna andare alle microcard dell'attore del presente dunque a Inazuma del tempo presente siamo dunque a Inazuma Revival dunque attore di Inazuma del presente dove possiamo vedere tutti i giocatori adulti che a loro tempo nella trilogia fecero la storia da piccoli Mark adulto per reclutarlo che è un po' di giocatori dunque preparatevi ma io a mio tempo come mi disse già in presidenza già feci vedere come reclutarli comunque Nathan adulto chiede Jack adulto che è qua presente e Nathan bambino questo reclutamento in Nathan adulto quindi compreso di Jack e tutti i vari oggetti già lo facci vedere in uno scorso video ovvero reclutare Nathan adulto in un video e Jack adulto in un altro video feci due video a parte anche se poi Nathan inglobava quello di Jack quindi vi lascio i link in descrizione aprite la descrizione mi raccomando vedete come reclutare se andate anche Jack passiamo dunque ad Axel adulto che chiede Kevin adulto e Kevin adulto che è il trofeo magnifico il giocatore Kevin bambino e Catina tripla record per il trofeo magnifico è uno di quegli oggetti che in pochissimi alla prima riuscissero a riusciti a ottenere perché è un oggetto che si trova ovviamente droppandolo da una sfida in Azuma Japan vi farò vedere dopo da quali amichevoli è un oggetto che in tantissimi ancora lo cercano probabilmente è l'oggetto con il più basso drop rate del gioco perché veramente anche io impiegai tanto ma non tanto quanto molti di voi quindi ho avuto fortuna nella mia sfortuna e bisogna però tenere bisognerà avere tutti i cacciatori assolutamente perché secondo le statistiche e i dati alla mano è forse veramente l'oggetto con più difficoltà da dover ottenere e parlando con il prete dei fire quindi nelle amichevoli verità bisognerà trovare in Azuma Japan eccola qua inconfondibili come vedete io non mi interessava il trono di fuoco cioè sì interessante ma neanche troppo in Azuma Legend Japan gli scarpini ma mi interessava il trofeo e per ottenerlo mi ricordo che otteni prima tutti gli altri oggetti mi manca giusto forse lo spiedino ma amen meglio così comunque con un altro trofeo magnifico Kevin adulto che deve pure Kevin bambino che bisognerà a stavolta andare ovviamente a Azuma del passato dirigiamoci alla Raymond Junior High e bisognerà ovviamente andare a sinistra del campo dalla Neko Car dove vi era il nostro magazzino di allenamento siamo qua alla Ovest con la Raymond leggendaria ovvero tutti quei giocatori che fecero parte del primo Azuma Eleven qualcuno del secondo e giocatori un po' random come Shadow per esempio ecco qua Jim, Todd e Steven comunque lasciamo stare c'è anche Victoria giocatori che non manco mai reclutato ma rimangono lì probabilmente a vita chi bisogna cercare è Kevin che l'abbiamo probabilmente che è già passato ma parlando ci siamo distratti ecco qua Kevin chiede rivista spiegazzata ed è uno di quegli oggetti che veramente mi fa sudare le palle perché bisognerà tornare alla Zuma del presente e purtroppo cercare di battere quella che è la squadra forse più scarsa di tutto il gioco ovvero a Riverside dalle amichevoli neofita da Steve queste amichevoli sono le più odiose perché si vincete 30-0 però dovete riuscire a battere squadre di livello 8 per esempio in questo caso vi siete spiegazzati dovrete battere la protocolla Omega non mi ricordo forse questa sì la 3.0 che comunque è a livello 29 ma voi siete a livello 90-99 passate nella vita e dovete confrontarvi con questa squadretta comunque mi raccomando cattere i tesori e cercare di ottenere questo oggetto Kevin bambino mi ricordo che voleva anche un record già che ci siamo perché non mi ricordo la foto ma record sì ovvero catena tripla semplicemente bisognerà fare un gol in cui a catena si usano tre tiri diversi non so perché secondo me si è buggato il gioco perché sono sicuro di averli già fatti in qualche live in qualche video vabbè proveremo a rifarli in qualche altra live sicuramente comunque fai un tiracattina tra i giocatori molto molto semplice a questo punto torniamo almeno io torno al zoom del passato per vedere il prossimo oggetto ecco qua non mi ricordavo Kevin chiede foto o tabellone però questa foto bisognerà intanto andare nella zoom del presente è questa bisognerà sicuramente entrare all'interno della palestra e fare una foto a un tabellone che ora non ho idea di dove possa essere ma sono sicuro che c'è da queste parti forse questo qua sicuramente c'è una foto non mi ricordo quale però e vabbè insomma fate la foto sicuramente in questa zona dove c'è un tabellone torniamo dunque alla torre del presente perché ora potremmo reclutare direi sicuramente Kevin bambino ma forse pure Kevin adulto perché Kevin adulto chiedeva Kevin bambino appena fatto trofeo magnifico che già abbiamo ottenuto e Cassina tripla che è esattamente lo stesso record che chiedeva Kevin ripassiamo dunque a Mark che chiedeva Axel che oltre a Kevin appunto chiede pure Axel bambino Axel bambino ci ho già fatto sicuramente video reclutamento ne sono sicuro 100% se non l'avessi fatto insomma comunque mi ricordo che è semplice da reclutare in ogni caso troverete il link in descrizione se l'ho fatto io purtroppo non ho preso un po' la sprovvista ma mi pare ne aver già fatto video reclutamento confermo dunque che ho appena visto che l'ho già fatto purtroppo non me lo ricordo alla memoria corta comunque reclutato Axel puoi andare a Mark Mark chiede pure Mark bambino e che palle purtroppo il reclutamento di Mark bambino io non ho voglia di farvelo vedere ma non perché sono stanco per non dire ho caldo quello si è quasi agosto ma mi sembrava inutile perché comunque richiede gli stessi requisiti che a loro volta sono sempre gli stessi ovvero come reclutare Jack adulto ve l'ho già fatto vedere stessa cosa di come reclutare Nathan perché lo chiede chiede Axel insomma sono sempre le stesse in ogni caso io vi lascio in descrizione un video di un amico di un fan che ho conosciuto negli anni o di un certo Anto che lui l'ha fatto il video ma vi renderete conto che alla fine sono lo stesso reclutamento che gira che rigira sono sempre gli stessi giocatori vecchia lavagna sono sicuro non ve lo so far vedere ma insomma fidatevi è la Raymond del presente al club di calcio club di calcio ovvero quello insomma quello che chiamo magazzino lo sgabuzzino dove si allenava un tempo la prima Raymond al su interno ci sarà una vecchia lavagna dunque con un po' di difficoltà anche Mark Evans reclutato un giocatore molto forte quanto complesso da reclutare perché certo io l'ho fatto in velocità perché comunque è un giocatore che io già avevo ma mi rendo conto che può essere complicato KBlack parliamo di Kingley Black Crown un giocatore esclusivo di fiamma dunque se avete tuono se ne manca guardare questa parte di video e schippate perché purtroppo è solamente ottenibile in fiamma e bisogna andare in Francia è un giocatore metticela tutta che non tutti conoscono ma che sicuramente può essere interessante perché a parte i 3 che ho fatto vedere è un po' sconosciuto e chi interessa fare giocatori o squadre con giocatori sconosciuti questo può essere una buona alternativa una buona idea di reclutamento ecco qua Kingsley e che della mappa scolorita bisognerà andare in uno scrigno io questo non lo sapevo ma ringrazio Robby sempre lo stesso del scorso video che mi ha aiutato in ciò perché bisognerà sempre essere ad Orleans ma andare in quel ponte dove ci sono gli amichevoli di Re Carlo gli amichevoli incendi dunque superiamo i cancelli ci dirigiamo al ponte e sarà uno dei due scrigni presenti qui in alto a destra una cosa che io veramente non mi ricordavo mai nella vita ma qui a destra pare che ci deve essere pure forse a sinistra uno scrigno ma quello che ci interessa è a destra che darà l'oggetto mappa scolorita ora non l'ho più io perché ovviamente l'ho già ottenuto K Black Crown chiedeva anche un tema a parità decisiva bisognerà andare a Camelot a Grimwell bisognerà andare in quella casetta che si chiamava il posto del viandante esattamente e parlare con un ragazzo all'infuori di questi 5 6 che vedete che vi darà il tema a parità decisiva K Black chiedeva mentre torno intanto là perché non mi ricordo non è un requisito anche sempre lo stesso orologio taglia unica che vi ho fatto vedere già come reclutarlo come per meglio dire ottenere quell'oggetto ovvero battendo la ogre alle amichevoli nostalgia mentre ciò che ci interessa ancora è l'ultima foto che purtroppo non mi ricordo cosa sia forse Maneki ad ogni modo torno ad Orleans per guardarci subito K Black è un giocatore che veramente non mi aspettavo a imparare se mi diceva tutta ma quando l'ho scoperto ci sono rimasto quasi male comunque foto Maneki Neko Nero mi ricordavo è una delle foto più semplici di questo gioco perché bisognerà andare a Kyoto dunque in tutte quelle zone in cui è presente sono presenti un po' di località e un po' di un po' di negozi bisogna entrare al suo interno qui se trovassi la porta ostia eccola qua e fare la foto al Maneki Neko Nero per chi non l'avesse ancora mai fatta c'è anche la foto Maneki Neko Bianco che può essere utile in qualche reclutamento e dunque Kingsley Black Crown reclutato apparentemente come ovviamente statistica non è che sia un granché sicuramente con l'ingruppaggiamento può arrivare forse anche a 300 oppure con le statistiche i training point è un giocatore che comunque impara a re nero oltre a essere un giocatore innato dimenticela tutta dunque re nero vi consiglio di toglierlo però a K Black e metterlo a un portiere come Trupal o al vostro portiere perché è veramente molto molto forte parliamo ora dei difensori i difensori manco farla apposta ma entrambi sia Icadel che Ischer sono dei giocatori che io da poco ho reclutato non perché non conoscevano ma perché sapevo bene grazie ad amici e fan che imparassero questa tecnica extra ma che io non ho mai reclutato e quindi l'ho fatto solamente grazie a questo video Ischer già ho fatto vedere come reclutarlo faceva parte del reclutamento di Luciafar all'inizio quindi vi lascerò poi il commento o il cuoricino messo in primo piano per reclutarlo per andare comunque a rivederlo mentre Icadel bisognerà tornare al giocatore del tempo ovvero nella stessa amico card dove abbiamo reclutato Luciafar e tutti i suoi compagni che richiedeva ed ecco qua Icadel che chiede Ientl le Fiel e un tema allora Ientl è subito qui sotto solito stesso oggetto che ci accompagna da tutto il video è un'uotaglia unica sempre dalla Ogre è un'amica con nostalgia mentre la foto oasi del futuro questo sono sicuro sia ai suborghi per arrivare ai suborghi di Sant'Eldor ovvero la zona dove poter fare la foto oasi del futuro io non me lo ricordavo ma bisogna andare in questo teletrasporto penso sia la zona più nascosta di tutto il gioco perché non c'è nella mappa e far la foto a quella fontana che già potete vedere sulla mappa lì a destra che poi realmente può essere definita un'oasi del futuro eccola qua dunque Ientl reclutato passiamo a le Fiel che sono Ientl era femmine in realtà e le Fiel è maschio vabbè oriutaglia unica sempre solito oggetto dalla Ogre tema creature arcane per questo tema bisognerà andare all'epoca Sengoku al covo di Cervib ecco in questa zona qua e bisognerà parlare con un ragazzo o una ragazza che non sia una di questi a naso mi ricordo tipo qua che vi darà comunque il tema creature arcane dunque le Fiel è reclutato Ientl reclutata passiamo dunque torniamo a dove cazzo sei Eccadale eccolo qua tema giochi di orie del passato bisognerà andare all'Inazuma del presente questa è una di quelle cose che mi fa indiavolare perché leggo la parola passato per realtà e presente come accadde per l'oasi del futuro insomma quello che avevamo visto prima l'aiola del futuro e bisognerà andare alla Remon al centro all'area sud e parlare con un ragazzo che io mi ricordo essere vicino a dei paletti dunque ci troviamo sempre all'area sud dovrebbe essere qua perché i paletti sono questi oddio ce ne sono tantissimi di paletti però guardate la mia mappa se vedete un puntino in più rispetto a quelli che ho nella mappa vuol dire che il ragazzo che vi darà il tema gioie e dolore del passato dunque anche Eccadale reclutato maschio si non si capisce nulla se sono maschio e femmine sia Cadere che Iscele reclutati sono giocatori che so che stanno bene come Aura non ve li consiglio come giocatori in campo questo lo so per certo sono giocatori che comunque imparano sicuramente ve lo garantisco mettecela tutta un extra che può essere fondamentale per i vostri difensori ovviamente data in Aura ad altri come Oscar Sumner Presari e tanti altri passiamo ora ai centrocampisti passiamo subito a Slinka giocatrice che già invece vedere come reclutare e dunque per mia fortuna mi risparmio il reclutamento ma perché al tempo già lo feci dunque vi lascerò pure per queste il link in descrizione una giocatrice veramente molto forte non vorrei dire una scemata ma forse è la centrocampista femmina più forte del gioco che impara mettecela tutta tutto il resto non penso sia suo ma anche una regina bianca ma guardate l'attacco 3-4-4 è veramente molto forte ci ho fatto per un set dunque e quindi Slinka la vediamo già in tre video diversi per tutte le live e i video ci ho fatto per un set in cui la Misi Miximax come Aura di Liana Monicor altro centrocampista veramente molto forte andatevelo a vedere nel video che appunto feci direi un anno fa comunque quindi anche Slinka così reclutata perché già lo feci ma mi ricordo che non ci impiegai tanto a farlo parliamo dunque di Bird Bird altro giocatore che in pochi conoscono ma che impara mi dice la tutta sono sicuro che ciò che vedete oltre a questa extra non sia suo anche perché imparare fuoco più a un giocatore albero non avrebbe senso ma comunque parliamo di Bird bisognerà andare sempre alla Raymond però in palestra dunque qua nel frattempo vi dico che io Bird ora che mi ricordo l'utilizzo come Miximax di Gongzu Mei Gongzu una mia giocatrice femmina che al tempo avrebbe dovuto far parte della squadra femminile prende appunto Miximax Halberd dunque l'amico card è Scudieri Neri dunque dovrebbe essere l'unica qua presente che potremmo passare anche di qua spero sì e sarà presente il nostro Halberd che vediamo cosa chiede subito eccolo qua più ma in Fausta allora per questo bisognerà andare alla torre del Gideon Imperiale dunque la torre del caos mi pare in realtà mi viene un dubbio perché è un oggetto che veramente non mi ricordo bene io sono quasi sicuro che bisognerà andare alla torre del caos per ottenere questa questa piuma e forse bisognerà battere questa sfida può essere o questa oppure quest'altra qui tutta a sinistra purtroppo io non me lo ricordo ma nei commenti è gradito un vostro una vostra conferma o un vostro aiuto io penso sia una di queste due e fra le due direi questa qua dove vi è Iceberg Bird chiedeva anche regolamento settoriale altro oggetto che io ho la memoria corta mi ricordo veramente poco ma sono sicuro che sia allo segno del cammino imperiale probabilmente nell'unica sfida spero ci sia da dover dover battere dunque sempre in quella microcard in cui poi si possono reclutare anche sei giocatori tutti adulti mi ricordo male ed ecco qua dovrebbe essere in questa parita qua in questa sfida qua per poter ottenere regolamento settoriale dunque Bird se come dico io è veramente semplice da poter ottenere è un giocatore dall'attacco comunque un po' scarsino in realtà che sembra alto ma ricordiamo che abbiamo buttato giù la tecnica per portare sull'attacco quindi anche con l'occupaggiamento sarebbe pure più scarso dunque l'ideale per me è utilizzarlo come aura parliamo ora di Ryoma Nishiki ovviamente giocatore che si sceglie tramite storia un giocatore che secondo me ritengo molto buono che imparo dicela tutta non penso a montagna più ma al Musashi per esempio che è uno degli spiriti guerrieri di montagna veramente forse uno dei più forti veramente interessante l'attacco è molto buono tanto che lo utilizzo come aura di Desmodus andatevi a vedere se avete voglia il video set definitivo Desmodus X Ryoma Nishiki perché sicuramente per me è un buonissimo set di montagna che fa il centrocampista forse uno dei più forti del gioco Desmodus insieme a Ryoma che impara cognatamente mettecela tutta Armando già vi faccio vedere nello scorso video come ottenerlo ma ovviamente vi faccio vedere pure qua onde evitare che ci siano dei misunderstanding bisogna andare nell'epoca Bakumatsu a Kyoto come avete visto Armando è l'unico giocatore e ve lo posso garantire che impara se è super tecnica che mettecela tutta è stata una scoperta quando scoprì appunto questo giocatore e bisognerà battere la sfida fantasmogorica mi pare o amici spettrali non mi ricordo come si chiama andiamo subito gli spettri ecco in cui è possibile ottenere Armando e qui se avete fortuna una volta battuta la sfida con il requisito di fare gol se avete fortuna potete reclutare Armando Armando è un giocatore che a me non dice niente ovviamente se è messo in campo ma non che mi dica troppissimo anche come Aura perché comunque ha super tecnica a mettecela tutta ma ha un attacco veramente irrisorio per assurdo è quasi più è più forte in velocità che in attacco dunque è un giocatore che boh ha preso un po' con le pinze perché sì che ha super tecnica a mettecela tutta non ve lo consiglio assolutamente come giocatore in campo come Aura se volete fare un set carino io vi consiglio cash tempest mix Armando oppure qua ci feci il video su set definitivo andate a cercare sul mio canale un annetto fa circa dunque una volta che ha guidato anche Armando abbiamo terminato i centrocampisti passiamo a Glacos Ghoul uno di quegli adulti che già vi accennai che è possibile trovarlo agli adegni imperiale dunque dirigiamoci nell'isola e nello stadio vi è questa amico card in cui vi è anche Pincus Mountbatten per esempio che tra l'altro ora mi viene in mente potrei anche dirvi di andare a vedere quel video ma in realtà Ghoul è un giocatore che era richiesto in Mountbatten però io vi faccio comunque il reclutamento anche in questa parte di video molto semplice chiede Manuel allenatore che bisognerà battere ecco per questo io ho un dubbio perché Manuel allenatore io sono quasi sicuro che si ottenga dalla sfida qui presente all'attore del caos per cui mi viene un attimo il dubbio che prima sconfinata non sia in quella sfida lì da iceberg insomma da quel ragazzo dai capelli bianchi e blu perché secondo me il manual allenatore ecco per cui mi viene dal dubbio dovrebbe essere qua per cui prima un fausta o siamo fortunati ed è in quella sfida lì in alto a sinistra quella dove qui sto andando oppure purtroppo non mi ricordo è un oggetto che sinceramente sono quasi sicuro di aver ottenuto senza manco ricordarmi di averlo preso quindi boh spero che sia in questa sfida qua altrimenti nei commenti confermatemi oppure ditemi il contrario gullo e chiedeva anche mistral mistral è un giocatore che ho già fatto vedere già come reclutarlo nello scorso video speri super tecnica ma comunque ve lo farei a vedere anche qua bisognerà andare a camelot dirigerci mi pare a cinon no anzi alla grotta della tristezza piccolo lapsus uscire però da questa zona e con il cavallo dirigervi nell'amico card l'unica presente in alto a destra in alto a destra c'è neanche una in basso ma quella che ci interessa è questa qua acqua della vita in cui è presente mistral che chiede se è rilassante sal e record parliamo del record perché è la cosa più semplice cercato di trovare navigato mi pare sia dover ottenere semplicemente anzi non semplicemente perché comunque vuol dire avendo già un po' un bel po' di dove sei non lo so un bel po' comunque di scrigni eccolo qua navigato 50 scrigni in realtà pure qua mi manca ancora questo record purtroppo questo qua è veramente difficile da fare perché bisognerebbe guardare ogni zona e chissà quanti me ne mancano come uno può essere anche o dieci comunque 50 scrigni per mistral sal siamo sempre a camelot per reclutare sal a castro di real 2 e bisognerà battere se non vado errato la prima sfida sinistra appunto o all'entrata si dovrebbe essere questa qua vediamo subito se vi è sal vuol dire che questa qua è la sfida altrimenti sarà quella dentro il castello eccolo qua sal ecco il giocatore c'è anche mistral qualora qualcuno non l'avesse ancora manco visto cosicché prima lo vede e poi lo va a reclutare mistral chiede anche sfida rilassante sfida rilassante allora qua sono sicuro che nella sfida l'unica presente al mastio ovvero dentro a castello di real 2 battendo la sfida di weathervan qui presente il giocatore comunque anche vi consiglio e dunque ragazzi ghoul è reclutato perché mistral l'abbiamo fatto e di conseguenza pure ghoul è molto semplice veloce in prova di c'era tutta un giocatore che io non vi consiglio neanche qua come giocatore in campo ma come aura magari si questo è il suo set perché non glielo ho mai cambiato dunque manco da avere tecniche particolari diciamo che sono attaccanti ben più forti come diceva tutta ovvero i prossimi due che vi sto per far vedere ovvero Navan e Dubois parliamo di Navan Navan all'amico card giardino di Zuge Liang al fan club di Zanark dunque dirigiamoci all'epoca dei tre regni dunque siamo al giardino di Zuge Liang e bisognerà andare non è che non è che qua al presente anche per Navan vi dico già che ci sarà da reclutare qualche giocatore extra proprio per arrivare ad arrivare appunto a Navan chiede Asta il giocatore a fianco è una foto Asta chiede a modi ad Overbike per questo oggetto chiedetemi se sbaglio bisognerà andare alle amichevoli in Francia ma a parte che lo vedo subito se ho sbagliato meno alle amichevoli appunto incendio del re Carlo dunque siamo in Francia ora dei cent'anni e torniamo ad Orleans sul ponte ecco qua siamo ad Orleans ora non mi ricordo quale sia la sfida probabilmente le velocissime vediamo se le trovo eccolo qua modellino di Overbike pure qua come per la amicavoli neofita è un po' una palla da averle basse per quanto semplicissimo però insomma una palla perché sono al 27 Asta oltre a modellino chiedeva Luzit Luzit bisogna tornare a Uari al parco dei ciliegi cioè ci andiamo per la prima volta in realtà però bisogna andare in quella zona lì per avere l'amico car di Luzit è un giocatore sconosciutissimo al mondo ma che è importante per reclutare alla fine Navanne attaccante molto forte dunque vi ripeto Luzit è in questa amico card qua presente qui dai ricordi fantasma ovvero i giocatori più brutti di tutto il gioco li trovate qua che chiede l'antenna spettrale è un oggetto che si può battere che si può tenere al copo dei cervi bianchi dunque bisognerà andare semplicemente sempre all'epoca Sengoku e battere oddio non mi ricordo quale sfida vediamo se non me lo sono scritto ah no la prima sfida quindi bisogna uscire da qua dall'entrata e battere questa squadra qua per tenere l'antenna spettrale mentre chiedeva poi Luzit un giocatore che vi farò vedere dove ovvero Ty mi pare che bisognerà battere i medium ecco potevo rimanere al copo dei cervi bianchi perché i medium sono la squadra esattamente qui a destra mi sembra che sia proprio questa qua ora non vorrei dire una scemata ma mi pare che Ty un giocatore che chiede Luzit per reclutare sia proprio qua eccolo qua il secondo c'è anche Luzit tra l'altro quindi per chi non l'aveste mai visto lo può trovare qua e dunque se avete la fortuna di poterlo ottenere reclutate a finire una volta vinta anche Luzit scusate anche Ty torniamo a Luzit il caldo mi sta facendo un po' delirare scusatemi ma dopo un'ora di video comincio a dare un po' i numeri Luzit dunque chiedeva oltre a Ty che in realtà hai visto qua ma va regolato tramite sfida mi raccomando super casetta postale un tema che bisogna andare alla stazione di Riverside dunque la zona è presente per cui andiamo a Riverside e dirigiamoci in una zona che veramente poco frequentiamo durante la trama per fare preparare con un ragazzo all'infuori di questo capo stazione che vi darà il tema super casetta postale in realtà forse forse potrebbe non essere qua proprio l'oggetto è un tema che cercate ma più qua forse ancora ora sono avendo un attimo di dubbi no insomma secondo me perché mi ricordo vicino a dei container rossi ecco almeno qua si sono dei container oppure dovrebbe essere qui da qualche parte insomma alla stazione dai insomma alla stazione potete trovare il tema super casetta postale e dunque anche Luzit reclutato Navan per arrivare a ottenerlo chiedeva anche ora che mi ricordo foto mulino d'acqua perché chiedeva appunto Asta Asta chiedeva Luzit dunque Asta reclutato foto mulino d'acqua bisognerà tornerà le poche Sengoku ma stavolta andare nelle risaie dunque per arrivarci andiamo a Owari per arrivare alle risaie basta riuscire da Pullman passare il tempio di Gizzo e ci ritroviamo nelle risaie ora il mulino mi pare che sia qui vediamo se abbiamo se abbiamo azzeccato o comunque forse sto qua non lo so eh si sto qua è il mulino dunque non so se dal dietro o dal davanti fate la foto mulino ad acqua e dunque anche Navan reclutato un attaccante che a differenza di Ghoul in realtà vi consiglio come come volete voi se vi piace mettetelo in campo se vi interessa da utilizzare come aura di qualcuno come feci io per non mi ricordo chi forse per Simeon no perché è fuoco non mi ricordo comunque lo potete trovare nel mio canale tranquillamente forse per Kayon eh comunque Navan a me dice la tutta ehm insomma ha un tiro veramente molto molto elevato oltre anche a una grande velocità io ve lo consiglio un giocatore di grande talento come dice anche la descrizione da usare come aura per quanto mi riguarda per Kayon mi pare io lo feci così eh Dubois invece che a sto punto non mi ricordo per chi lo feci ma ho un lapsus comunque in qualche mio video c'è anche il set in cui feci Miximax Dubois eh che gli misi addirittura è vera vabbè insomma mi dice la tutta lo impara innatamente e bisognerà andare al castello di Cinonne dunque tornare in Francia all'epoca eh della guerra dei cent'anni ma stavolta fermarsi eh al castello dunque la zona è questa e eh l'amico card è presente qui una volta entrati dopo queste inferriate eh nel castello ovvero cavalleria di risotto eccolo qua Dubois che dimenticata è un tema per andare dimenticata bisognerà tornare o meglio dire andare per la prima volta alla valle della loira per arrivare alla valle della loira dunque per ottenere quell'oggetto non è dimenticata bisognerà passare per Orleans uscirci e a sto punto bisognerà oddio non ricordo quale ma si trova dalla sfida Ombres Ombrosi io ragazzi non ne ho voglia compatitemi sopportatemi ma è una di queste cinque quella che si chiama Ombres Ombrosi può ottenere si può appunto grazie alla fortuna e alla vostra possibilità di avere quell'oggetto lì perdonatemi ma non ho voglia cazzo cinque sfide c'è troppo caldo e a questo punto ultimo tema di questo altro immenso video è all'iguarite bisognerà andare alla periferia del passato dunque passare dal centro nella zona del passato e andare poi alla periferia passando da sotto una zona che mamma mia è degradante rispetto a quella che conosciamo ora e parlare con un ragazzo che dovrebbe essere se non vado errato a parte all'infuori di un di questi cinque ma proprio qua sopra vicino a quello che è un cane qua c'è proprio c'è mica un cane no ho scambato per un cane scusami ma insomma un ragazzo qua secondo me è qua nelle vicinanze ragazzi Dubois reclutato e dunque ufficialmente pure questo video è finito un video a cui devo ringraziare Ederne per avermi organizzato questi reclutamenti insomma io ho dato i nomi lui mi ha fatto in modo di poterli cercare e dover reclutarli ringrazio anche Robby Afuro Terumi e Justine per l'aiuto di questo ennesimo video è stato estenuante però sicuramente è un modo per ringraziarvi anche di questi 9500 iscritti ormai passati siamo quasi a 10.000 vi spoilerò che in questo agosto per chi è arrivato fino alla fine di questo video magari sparga la voce lo dica agli altri farò sempre meno video perché comunque avrò veramente pochissimo tempo e pochissima voglia se visto anche alla fine di questo video che ero veramente stremato preferisco andare al male preferisco uscire e spero che lo preferiate anche voi in ogni caso su Telegram ci sentiamo se ci sono delle novità se ci sono delle vostre iniziative parlando del video ciò che vi consiglio sicuramente a reclutare sono gli attaccanti Dubois Navan e Gul vi consiglio Armando come mix Max Akash Ryoma come mix a Desmodus Bird come mix a Guangzhou The Link con mix e Aliana Monicorn Isher Decade Fate Vobis perché purtroppo non ho reclutati ma vi assicuro di nuovo che è possibile avere questa tecnica inattamente e attaccanti bene o male a parte K-Black che non so bene come sia impresa ma sicuramente arriverà sui 300 o 280 gli attaccanti sono veramente dei must da poter avere da dover avere in ogni squad secondo me ragazzi per questo video enorme e per questa serie di due video reclutamenti è tutto con oggi io chiudo definitivamente o quasi chissà la serie reclutamenti che comunque ci ha accompagnato da 4 anni a questa parte forse anche quasi 5 da quando feci quel video totalmente sconnesso con la fotocamera mamma mia che ricordi di Alfa poi di Axel di Beta eccetera ma ragazzi dopo questo direi che ho fatto tutto dei reclutamenti ci vediamo con tanti altri video spero e tante altre idee di qui a venire ciao ragazzi e ci vediamo a un prossimo video ciao ciao ciao